Bisogna anche chiedere le dimissioni dell'assessore perché di fronte a un disastro del genere la cosa è molto molto grave. Però serve chiarezza, serve molta chiarezza da tanti punti di vista. Pacato nei toni sempre, anche quando sferrava un attacco, una dote rara per un politico. Questo era Claudio Sinigaglia, l'ex assessore regionale del Partito Democratico ed ex vice sindaco di Padova, è scomparso all'età di 62 anni. Da qualche giorno era ricoverato in ospedale per l'aggravarsi di un tumore. Una persona per bene dai modi gentili, equilibrato e preparato, gli aggettivi che più sono stati usati per descriverlo da chi lo conosceva bene. Il cordoglio unanime dal mondo politico ma anche delle associazioni, la lunga storia di impegno civile e politico di Sinigaglia infatti era iniziata con l'azione cattolica dove aveva fatto per anni l'animatore. Una storia politica cominciata dal basso, prima nel consiglio del suo quartiere a Padova, poi in consiglio comunale nel 1990 dove era entrato con l'ADC. Nel 1995 Flavio Zanonato lo nomina assessore alla casa e allo sport, un ruolo che ricopre anche dopo la pausa all'opposizione durante la guida del comune da parte di Giustina Destro. Nel frattempo passa alla Margherita e poi al PD. Zanonato infatti nel 2004 lo rivuole in giunta e lo nomina anche vice sindaco. Nel 2009 è di nuovo assessore, sempre con Zanonato. Un incarico però che lascia nel 2010 quando viene eletto in consiglio regionale con il PD. In questi dieci anni di impegno in consiglio regionale abbiamo portato avanti insieme tante battaglie e Claudio è stato un infaticabile difensore della sanità pubblica e delle politiche sociali. Gli hanno scritto in un messaggio gli ex consiglieri regionali del Partito Democratico Stefano Fracasso, Bruno Pigozzo e Graziano Azzalin. La battaglia per l'ospedale Sant'Antonio e contro i ritocchi e i canoni Ater sono stati i suoi ultimi impegni. Stima e affetto per il suo equilibrio nel perseguire le sue battaglie politiche. Lo ricordano così Vittorio Ivis e Davide Tramarin, rispettivamente segretario provinciale e cittadino del PD Padovano. Mai fatto mancare un suo consiglio, un suo garbato suggerimento sui temi della sanità regionale è stato un riferimento lucido e preparatissimo, scrive invece Arturo Lorenzoni. Sinigaglia lascia la moglie Roberta e tre figli Edoardo, Gregorio e Virginia. A breve verrà stabilita la data dei funerali.